Un gioco di specchi per una nuova concept car di Lexus. Alla Design Week oggi si apre questa settimana di innovazione e creatività. Che cosa Lexus vuole portare, cosa sta portando e con quale significato, con quale messaggio per il mercato italiano? Sicuramente questo è un tema di esperienza dei sensi. Quindi si passa per tutti i sensi e portano dalla vista. Questo è il nuovo concept car che è stato presentato a Ginevra nel 2015, adesso in marzo. C'era lo stilema delle prossime produzioni Lexus a livello mondiale. In questo percorso oggi c'è poco di razionale dal punto di vista di automobili. Vuole essere un'emozione che anticipa dei concetti. Come Lexus siamo molto attenti a temi di design, a temi di sostenibilità. Quindi sicuramente questa è una dimostrazione molto concreta di quello che Lexus da marchio può fare a livello mondiale. Bene, grazie. Lexus alla Design Week, una, devo dire, impressive, come si dice, veramente bello. E come sta andando il mercato italiano? Piccola domanda commerciale. È molto, diciamo, di sviluppo dal punto di vista di volumi. Siamo raddoppiando, se non triplicando, le vendite nel 2015 rispetto a due anni fa. Nel 2013 venivamo in lettura e quest'anno arriveremo a oltre 3.000. Quindi sicuramente siamo in fase di crescita abbastanza. Quindi confermate una certa fiducia in questo paese. Assolutamente. Grazie, buon lavoro. Grazie a tutti.